Numero 9, poi abbiamo over 40, ti arrivino, ti arrivino over 40, eccolo lì, numero 30. Poi, ecco un attimo solo che ti riesco a trovare... At the moment we have overall, over 40, master, overall master classes, and junior. Next one will be bodybuilding, class, over room. Manca, ti arrivino. Mi sembra strano perché è rimasto qui tutta la sera. Super! Va bene, allora, Tiaridino non c'è. Va bene, allora fatti venite avanti. Venite avanti, prego. Before the podium. One minute, free posing, please. Un minuto di pose libere. Un minuto! Un minuto! Nonérica! Poi, vai, vedi, vedi. Il concorrente juniore si chiama? Marius! Zerniewicz Marius, Polacco. Il concorrente, il concorrente, il concorrente. Il concorrente 216 a desenvolupazione. Ok, grazie. Perória a contro la regla, parte... Autore due. Placetti siっちgi. Grazie. Abdominoli e tais. Mosto biskola. Latt spread. Dorsali. Ok, relax. Side to the judging. Chest. Chest pose. Relax. Triceps. Triceps. Relax. Back to the judges, please. Double biceps. And with latt spread. Thank you, friend again. Go back to the podium, please. I want to start the podium. I will go back to the podium. Then I will go back to the podium. I will go back to the podium. This is your window, please. The podium will go. Now the podium is open. I will show you the podium. allora il vincitore della dell'assoluto over overall is you number nine you are the winner mister roy mclean the first roy mclean il vincitore assoluto categoria over tra tutte le categorie over grazie abbiamo quasi le tre età qui a confronto però per arrivare a lei ce ne corre devono mangiare pane